Benvenuti in questo nuovo tutorial. Quando animiamo un caratter o un personaggio, ci rendiamo conto subito che non è così facile come pensavamo. Abbiamo mille livelli, tutti diversi tra loro, tutti che vanno secondo un determinato ordine, tutti che devono essere collegati l'uno all'altro in uno specifico modo. Insomma, è un gran casino. E poi, se aggiungiamo anche l'animazione con tantissimi keyframe, tantissimi effetti e tantissime altre cose, diventa ancora più un casino. Ora, la situazione che ho appena descritto potrebbe sembrare catastrofica e al limite della sanità mentale, ma in questo video vedremo insieme come semplificarci la vita. Per utilizzare questo metodo ci affideremo a uno script chiamato DoWeek. Questo è il primo script che porto nel canale e penso che sia uno dei più utili. Ci tengo a precisare che DoWeek è uno script totalmente gratuito, ma non fatevi ingannare perché anche se è gratuito, è uno script che viene utilizzato dai più grandi studio al mondo di motion graphic. Principalmente DoWeek è usato per l'animazione di character e personaggi. E in questo caso vedremo proprio come applicarlo a un determinato pezzo di un personaggio, in questo caso un braccio. Alla fine di questo tutorial saremo in grado di muovere il braccio tramite un solo ed unico livello. E tutto questo senza dover mettere mille keyframe in mille livelli diversi. Ne basterà solo uno. Ma ora iniziamo col tutorial. Prima di passare ad After Effects capiamo effettivamente cosa stiamo andando a fare con un esempio reale e concreto. Ogni parte del nostro corpo si muove rispetto ai punti ben precisi. In questo caso noi vediamo un esempio rispetto a un braccio. I punti di rotazione sono tre, ovviamente escludendo i punti di rotazione delle dita. Abbiamo la spalla, il gomito e il polso. Bene, questa struttura è quella che dovremo andare a ricostruire su After Effects. È la stessa identica cosa che accade anche al tuo braccio nella vita reale. Come prima cosa dobbiamo costruire il nostro braccio. In questo caso lo costruiremo in tre parti diverse, perché queste tre parti dovranno muoversi in modo diverso tra loro. E quindi non può essere un pezzo unico. Abbiamo la prima parte del braccio, l'avambraccio e la mano. Dopodiché andiamo a individuare i tre punti di rotazione del nostro braccio. Ossia il punto di rotazione della spalla, il punto di rotazione del gomito e il punto di rotazione della mano. Su questi tre punti che abbiamo individuato andremo a costruire dei cerchi. Ora, ognuno di questi cerchi controllerà la rotazione rispetto a quel punto della parte successiva del nostro braccio. Mi raccomando, è importantissimo che costruiamo per ogni punto di rotazione un cerchio. E tra poco capirete anche il perché. Bene, ora abbiamo capito perfettamente come costruire i nostri livelli. E ora nella nostra composizione ne abbiamo sei. Tre, che sono i punti di rotazione, e tre, che sono le parti diverse del nostro braccio. Ora c'è solo una piccola premessa da fare. Parliamo un secondo del parenting, che è un'opzione che dovremmo utilizzare per realizzare questo tutorial. Come prima cosa capiamo cos'è l'opzione Parenting. L'opzione Parenting funziona in modo molto semplice e intuitivo. In questa composizione, come vedete, abbiamo due livelli, un pentagono e un quadrato. Se noi mandiamo in play, il quadrato si muove con velocità costante, si ruota con velocità costante per tutta la durata della timeline. Mentre il pentagono sta completamente fermo. Ora, se noi utilizziamo l'opzione Parenting e colleghiamo il pentagono al quadrato con questa chiocciolina, quello che succede è che se noi mandiamo in play, il pentagono si muove assieme al quadrato. Questo perché ora, con l'opzione Parenting, il nostro pentagono subirà tutte le trasformazioni che subirà il quadrato. Infatti, se noi adesso andiamo ad esempio a scalare il quadrato, si scalerà automaticamente anche il pentagono. Invece ora passiamo al vero e proprio tutorial. Come prima cosa, quello che possiamo vedere è che qui abbiamo sei livelli. I primi tre, quelli in arancione, sono i tre punti di rotazione del nostro braccio, come vedete. Mentre gli altri tre sono i pezzi del nostro braccio. Uno, due e tre. La prima cosa che dobbiamo fare è verificare che i punti di ancoraggio dei nostri centri di rotazione siano tutti al centro. Infatti, se noi selezioniamo il primo livello adesso, vediamo che il nostro punto di ancoraggio è esterno, mentre invece per gli altri due si trova esattamente al centro. Ipotizziamo che anche il secondo cerchio era, diciamo, scorretto. Per mettere il punto di ancoraggio al centro di ogni figura, basta semplicemente selezionare la figura a cui noi vogliamo modificare il punto di ancoraggio e andare qua sopra, in queste iconcine, e tenendo per muto Command su Mac o Control su Windows, facciamo doppio clic. Come vedete, automaticamente i nostri punti di ancoraggio, dopo il doppio clic, sono andati al centro della nostra figura. Possiamo fare la stessa cosa anche per gli altri tre livelli, anche se momentaneamente sembrano tutti al centro. In questo modo abbiamo verificato che sono esattamente al centro, quindi va bene così. Ora, passiamo ad UIC. Andiamo qua sopra, nella barra del menu, e sotto la voce finestra andiamo a cercare qua in fondo la voce di UIC. Questo qua è lo script che noi utilizzeremo. Apriamolo. Ok, si è messo qua in mezzo. Spostiamo un attimo a destra. E noi qui a destra ora abbiamo il nostro UIC. La prima cosa che ci chiede in questa finestra è vuoi rigare, vuoi animare, vuoi mettere una camera o vuoi importare o esportare qualcosa. A noi per ora ci interessa la voce rigging. Appena clicchiamo con la voce si apre un'altra interfaccia, dove qua abbiamo diversi elementi nella barra del menu e qua sotto abbiamo delle varie opzioni. Ora, in questo caso quello che noi dobbiamo fare è creare una mano, un braccio anzi. Quindi perciò clicchiamo sopra questa iconcina qua, la seconda, arm o front leg. E vediamo che DUIC inizia a creare uno scheletro. Questo scheletro possiamo muoverlo come noi vogliamo. Ma andiamo a capire effettivamente di cosa si tratta. La prima parte, questa qua, è la parte iniziale del braccio. Questa seconda parte invece è quella che sposterà l'avambraccio, mentre invece questa terza parte verde è quella che farà ruotare la mano. Come prima cosa dobbiamo andare a posizionare questo scheletro nel punto corretto. Perciò quello che ci serve adesso è avere tutti i punti di rotazione visibili e tutto lo scheletro visibile. Seconda cosa che dobbiamo fare è andare qua sopra nella voce aggancio e spuntarla. In questo modo, ogni volta che sposteremo un elemento, questo si aggancerà a un punto della nostra figura, che sia il lato superiore, il lato inferiore, angolo o centro. Adesso quello che dobbiamo fare è ancora più semplice. Dobbiamo prendere il primo controller, cioè questo qua del braccio, della spalla, e andiamo a spostarlo al centro del primo centro di rotazione. Perché se vi ricordate, se io attivo questi, quel punto lì è il punto in cui noi abbiamo la spalla, quindi il primo elemento che dovrà ruotare. Poi quello che facciamo è spostare il secondo pezzo, quindi quello che controllerà l'avambraccio e andarlo a posizionare al centro del secondo centro di rotazione. Dopodiché, facciamo la stessa cosa con l'ultimo pezzo che è quello che controllerà l'amaro, infatti anche questo si chiama end. Questo è il problema di Duik, che non vi ho detto. Duik è solo in inglese, da quello che mi ricordo. Non so se si può modificare in altra lingua, però teniamolo in inglese per ora. Comunque, dicevamo che questo ultimo pezzo che è quello che controllerà la rotazione della mano, andiamo a metterlo al centro di quest'altra figura. Ora, distruggiamo un po' per verificare che sia messo giusto, corretto. Sì, ok. Infine, questo ultimo pallino rosso. Diciamo che serve e non serve a niente. L'importante è che voi lo mettiate più o meno alla fine della vostra mano. Ok, così è perfetto. Ora abbiamo il nostro scheletro perfettamente al centro di ogni centro di rotazione. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a imparentare gli elementi del braccio con i punti di rotazione dello scheletro. Perciò ora, i punti di rotazione normali, possiamo anche toglierli per un attimo, che non ci servono più a niente. Ora quello che dobbiamo fare è imparentare gli elementi del braccio appunto con i punti di rotazione. Andiamo per ragionamento. Questo punto qua dovrà far ruotare la spalla. Perciò, torniamo indietro un attimo, prendiamo la nostra spalla che è l'elemento numero 1, il livello nominato numero 1, e andiamo a collegarlo col primo pezzo del braccio. Quindi usiamo l'opzione Parenting e andiamo a imparentarlo con questo. S-Arm. Ora appena abbiamo imparentato, se noi iniziamo a muovere questo braccio qui, il pezzo della spalla che abbiamo imparentato si muoverà con esso. Torniamo indietro e facciamo la stessa cosa con l'avambraccio con il secondo pezzo del nostro scheletro. Perciò, andiamo a selezionare il livello numero 2 che è l'avambraccio e lo andiamo a collegare al livello numero 3 che è il controller dell'avambraccio. In questo modo qua. Trasciniamo la chiocciolina e lasciamo sopra. Ora, quello che succede è che se noi muoviamo questo controller qui si muove automaticamente anche l'avambraccio. Però, la cosa interessante è che essendo questo avambraccio dello scheletro collegato con questo, quello che succede è che se noi muoviamo il primo elemento è che si muove anche l'avambraccio, cosa che prima non succedeva perché ancora non era imparentato. Applichiamo lo stesso principio al terzo elemento, quello verde, e andiamo a collegarli la mano, quindi il livello numero 3. Cioè, il livello nominato numero 3 che è però il livello numero 10. Forse ho sbagliato nominare i livelli in questo modo, però ormai è uguale. Colleghiamolo al livello numero 2 che controlla la mano, and. Mentre invece a quest'ultimo pezzo che è il pallino rosso non dobbiamo imparentarlo con assolutamente niente. Quello che dobbiamo fare adesso è ancora ancora più semplice di tutto quello che abbiamo fatto finora. Selezioniamo tutti gli elementi che controllano il nostro scheletro, in questo modo qua. Quando avete molti elementi è ancora più semplice perché basterà che cliccate questa voce qua di Deweyck che si chiama seleziona strutture, insomma, e se voi la cliccate vi selezionerà automaticamente tutte le strutture Deweyck che avete all'interno della vostra composizione. Perciò potete fare un po' come volete. Una volta che le abbiamo selezionate tutte, quello che andiamo a fare è andare nella seconda icona del menu di Deweyck, cliccarci sopra e andare a selezionare questa prima voce che si chiama Autorig e Ikei. Quando noi clicchiamo questa voce succede questa cosa qua. Vediamo un po'. Ok. Succede che praticamente Deweyck ci ha creato questa ecconcina della mano. Non so se la vedete. Questa ecconcina rossa. Cosa fa questa ecconcina rossa? Questa ecconcina rossa praticamente è un livello che si è creato adesso che prima non c'era. Infatti se vedete questo è verde mentre questi altri qua sotto erano verde chiaro. Se noi andiamo a muovere questa mano quello che succede è che come vedete tutto il nostro braccio si muoverà insieme alla nostra mano. Se noi lo allunghiamo però succede un po' un casino cioè che i pezzi si staccano. Però questa cosa è risolvibile. L'importante è che selezionate appunto il livello della manina andate qua nel pannello di controllo effetti e sotto la voce Stretch qui in basso se voi l'aprite ci sarà appunto questa voce che si chiama Auto Stretch se voi la spuntate la disattivate la mano per quanto voi possiate portarla fuori dalla composizione farà restare collegato sempre e comunque tutto il braccio. Questa cosa è veramente interessante perché in questo modo è semplicissimo gestire un rigging di un personaggio qualsiasi e questo concetto possiamo riutilizzarlo anche per braccia e altri elementi del corpo. ora noi possiamo anche disattivare completamente i livelli dello scheletro in modo da avere solo l'icona della nostra manina rossa. La cosa ancora più interessante di Duik è che questa concina rossa potete gestirla in che senso? Che come vedete adesso questa concina è proprio sopra livelli diciamo che in un punto un po' scomodo da selezionare soprattutto quando avete molti più elementi in questo caso magari è più semplice. Comunque la cosa interessante è che selezioniamo sempre questa manina tenendo selezionato il livello e andiamo qua sempre nel pannello di controllo effetti sotto la prima voce che si chiama icon icona abbiamo delle opzioni queste opzioni ci fanno modificare il colore la grandezza e la rotazione dell'icona insomma l'opacità un po' di cose quello che si interessa a noi adesso è la voce posizione perché come vedete se ora noi modifichiamo il valore di x la nostra manina si sposterà però non si sposta il braccio e questo perché succede? Questo succede perché noi in questo momento stiamo spostando solo l'icona e non effettivamente il livello perciò in questo modo possiamo metterla dove più ci resta comoda e gestirla molto più semplicemente ora spostiamola qua a destra dello schermo e ora se andiamo a spostare la nostra manina comunque sia il braccio si muoverà assieme a essa come vedete l'altro problema di questa funzione è che la mano non ruota insieme al braccio infatti per gestire questa cosa ossia farla girare contemporaneamente dovete utilizzare l'opzione di rotazione della nostra manina ora la nostra mano possiamo spostarla in due modi o premendo questa iconcina il cui shortcut è il tasto W della tastiera e andare sopra la iconcina e ruotarla oppure la seconda opzione è selezionare il livello premere il pulsante R della tastiera e ruotare la mano col valore della rotazione facciamo una piccola animazione giusto per vedere come funziona mettiamo un keyframe nella rotazione e mettiamo un keyframe anche nella posizione della nostra mano rossa ossia del nostro controller ora premiamo il pulsante U della tastiera per farci vedere tutte le opzioni ai quali abbiamo messo un keyframe e andiamo a spostare la nostra mano al secondo 8 della nostra timeline e portiamola ad esempio qui in questo modo qua quello che vogliamo fare adesso è ovviamente orientare anche la nostra mano rispetto al braccio perché come vedete qua era abbastanza allineata mentre qui qualcosina li manca perciò andiamo nella rotazione e giriamo leggermente la nostra mano per poi andare ancora più avanti nella nostra timeline spostare nuovamente la mano dall'altra parte ora potete disattivare l'opzione aggancio perché risulta abbastanza inutile e potrebbe darci problemi giriamo la nostra mano una nuova volta ora con il pulsante W della tastiera perché ho fatto prima vi ricordo che non è importante che vi utilizzate questa icona oppure questa voce qua comunque sia questa icona va a modificare l'opzione di rotazione quindi il keyframe ve lo mette lo stesso e andiamo a vedere nuovamente cosa succede il nostro braccio si muove contemporaneamente forse questa è un po' troppo lenta velocizziamola un po' spostiamo il keyframe e ora come vedete il nostro braccio si sposta in modo omogeneo e molto più semplice l'altra cosa interessante è che noi molto spesso potremmo non avere il braccio messo nell'orientamento giusto cosa significa questo? che se noi selezioniamo il livello della nostra mano che è il controller e andiamo sempre sul pannello controllo effetti qua sotto abbiamo l'opzione reverse in questo modo se noi abbiamo il braccio che deve avere l'altro orientamento quindi sinistro destro andiamo a spuntare questa icona e praticamente come vedete ora il braccio sembra che è dall'altra parte e vi assicuro che di questa cosa molte volte me la dimentico anch'io infatti inizio a impazzire tutte le volte però dopo mi ricordo che c'è e quindi mi salva la vita ora se vogliamo fare un'animazione un po' più carina andiamo a spostare questa mano qua portiamo questo keyframe all'inizio e più avanti la spostiamo qui e in questo ultimo tips vi voglio dare un piccolo segreto quando noi muoviamo una qualsiasi animazione è sempre molto utile fare in modo che la nostra curva di animazione cioè il modo in cui si sposta il nostro elemento non sia lineare ma utilizzi sempre uno spostamento ad arco e quindi tutti gli spostamenti diciamo che non sono mai lineari ma sono sempre un po' piegati e come facciamo per farlo per farlo è semplicissimo in questo caso abbiamo la posizione che è un solo elemento e non sono due questo è molto importante per ora e quindi andiamo a selezionare la nostra opzione e come vedete si evidenziano i due pallini diciamo che evidenziano appunto lo spostamento del nostro elemento e qua sopra nell'opzione penna tenendo premuto ci si apre un pannello dove possiamo selezionare delle sottopzioni in questo caso usiamo lo strumento convertitrice vertice lo selezioniamo e ora come vedete quando andiamo sopra a un punto di ancoraggio del nostro movimento la nostra icona del mouse si trasforma in una freccia un po' diversa da quella che c'era prima perché anche prima era una freccia ora cliccando sopra questo punto andiamo a trascinarlo come vogliamo e quindi li facciamo fare uno spostamento a nostro piacere facendo muovere questa semplice maniglia quindi mettiamola un po' così e da quest'altra parte vedete che possiamo fare la stessa cosa perché qui c'è un punto di ancoraggio che possiamo trascinare e far effettuare un movimento molto più verosimile al nostro braccio andiamo a metterli anche un easy in e un easy out e ora il nostro braccio si muove veramente in modo più fluido mi sono praticamente scordato di chiudere il video e quindi lo faccio adesso in modo molto semplice senza mettere sulle luce cose varie spero vi sia piaciuto spero abbiate capito tutto per qualsiasi dubbio se avete qualsiasi domanda qualsiasi cosa che volete chiedermi scrivetemi tutto nei commenti appena possibile vi rispondo per il resto mettete mi piace al video iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo ciao